Musica Erano un centinaio gli imprenditori e i dipendenti di nazionalità cinese ma residenti a Prato che hanno partecipato all'incontro che si è tenuto in una sala del vecchio ospedale cittadino alla presenza del governatore della regione Enrico Rossi e del neosindaco Matteo Biffoni e durante il quale sono state illustrate le linee guida del progetto per la sicurezza nelle aziende cinesi La task force coordinata dall'ex sindaco di Pistoia Renzo Berti comincerà infatti a operare a luglio tra Prato, Empoli, Firenze e Pistoia quando saranno completate le assunzioni dei 74 nuovi ispettori ASL Una volta che tutto questo personale è assunto devono essere svolti dei corsi di formazione che hanno l'utilità di trasferire loro il bagaglio delle conoscenze per renderli il più consapevoli possibile dello scenario con il quale dovranno confrontarsi e poi anche per l'ottenimento di questa qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria Qualifica necessaria per poter eventualmente disporre la chiusura delle aziende non in regola Ma la sfida principale, secondo Enrico Rossi, è quella di favorire l'emersione degli illegalità e trovare soluzioni abitative per gli operai sfruttati in modo da scongiurare tragedie come quella del dicembre scorso quando sette operai persero la vita nel rogo di un capannone Credo che non si può dormire accanto al telaio o accanto alla taglia e cusci Questo no, noi entreremo in tutte le fabbriche e le rigireremo come un calzino e le denunceremo È anche necessario però secondo Rossi un aiuto concreto da parte del governo e a questo servirà il tavolo previsto per il 13 giugno prossimo a Palazzo Chigi con il premier Renzi In quell'occasione Rossi riproporrà anche l'idea di istituire un salario minimo garantito anche per gli operai cinesi Solidarietà, bene comune, dialogo, disabilità e integrazione Questi sono alcuni dei temi delle oltre 2.500 campagne internazionali e 300 cortometraggi consultabili sul primo archivi online di materiali audiovisivi e pubblicitari legati al mondo del no profit e del sociale Due archivi pubblicati online da CESVOT e consultabili gratuitamente da tutti Grazie alla collaborazione con le associazioni AD e IART di Pisa e con il supporto tecnico della Digital Agensis Mediaus Un modo per rendere di tutti le storie di molti E soprattutto ci dà la possibilità di poter cogliere con grande attenzione tutte le sfaccettature di questa grande ricchezza che è il mondo del volontariato Sarà un'occasione per gli studenti universitari, per i ricercatori ma anche per i semplici cittadini di capire, di leggere dietro a quelle bellissime immagini, a quei bellissimi volti che cos'è il volontariato nella nostra regione L'archivio online di Society & Social raccoglie immagini e video delle campagne raccolte in tutto il mondo dal 2000 ad oggi, divise in macro-categorie che corrispondono agli ambiti del volontariato dei diritti delle donne alla protezione ambientale L'archivio online Raccorti Social raccoglie invece tutti i cortometraggi iscritti all'omonimo concorso video di Cesvot Le due banche dati sono consultabili dal sito plurallyweb.cesvot.it L'agenzia di comunicazione del massimediologo Klaus Davi ha realizzato il casting tra gli operai della Seves di Firenze per la realizzazione di un video che racconterà la difficile realtà degli operai della storica fabbrica fiorentina che rischia di chiudere definitivamente battenti L'agenzia aveva già realizzato un video illustrando la situazione delle acciaierie Lucchini di Piombino consegnato poi a Papa Francesco che ha voluto incontrare personalmente alcuni operai e sindacalisti nell'ultima udienza in piazza San Pietro Il video sulla vertenza della Seves verrà consegnato al presidente della Repubblica Napolitano nella speranza che tocchi il suo cuore Una situazione difficile come ci spiega Salvatore Forcella della RSU CGL Seves con 97 lavoratori che rischiano il posto di lavoro e che nella realizzazione del video di Davi vedono una speranza per far conoscere la loro realtà Quindi questa forma di lotta fino a oggi ci ha dato delle grosse soddisfazioni a livello mediatico e quindi abbiamo incontrato tutte quelle che sono le istituzioni a partire dal sindaco, dalla provincia, dalla regione e quindi noi speriamo che l'attenzione ancora rimanca viva su questa vicenda qua Il 5 giugno gli operai firmeranno un accordo che prevede un altro anno di cassa integrazione straordinaria nella speranza che nel frattempo arrivi un nuovo acquirente Il 5 giugno gli operai firmeranno un accordo che prevede un altro anno di cassa